Ancora una tragedia sfiorata alla berlina di Bobbio. Verso mezzogiorno un uomo di 58 anni, brisciano, si stava arrampicando sulla roccia ed è scivolato battendo la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'eleambulanza, oltre al personale del soccorso alpino, stazione Monte Alfeo e i carabinieri di Bobbio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Parma in gravi condizioni. Il signore si stava arrampicando su quella scogliera lì a sinistra dell'albero. A un certo punto di vista gli è scivolato il piede, è scivolato per due o tre metri, poi ha puntato i piedi, si è ribaltato ed è atterrato nella scogliera bassa dietro il cespuglio. Abbiamo chiamato l'ambulanza e sono arrivati quasi subito insomma. Ci siamo spaventati tantissimo, la gente è cominciata a urlare, chiama il 118, gente che piangeva, gente in panico. Era molto pericoloso e difficile da raggiungere, quindi anche i soccorsi... Il primo intervenire è stata una ragazza che ha cercato di farlo parlare, di tenerlo sveglio. È il terzo caso nell'estate di quest'anno. Il 18 agosto una giovane di origini nordafricane ha avuto un malore in acqua ed è stata salvata dai presenti. Dopo aver perso conoscenza si era lentamente ripresa. Un mese prima due fratelli di origini indiane, dopo essersi tuffati nel Trebbia, hanno rischiato di annegare. Si erano allontanati dalla riva finendo dove l'acqua è più profonda. Anche in questo caso è stato tempestivo e fondamentale l'intervento dei bagnanti.